Ne avevano lasciate in grande quantità sulla scena delle crimine, rovistando in tutto l'appartamento alla ricerca del denaro della vittima che teneva occultato in casa o a di altra refurtiva. Tracce biologiche e reperti che erano state isolate dalla scientifica e confrontati dal RIS dei carabinieri di Roma con i profili genetici dei sospettati acquisiti con una serie di escamotage e continui pedinamenti. Ed infatti due profili genetici ignoti corrispondevano con quelli di due dei quattro arrestati. A demanare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere il GIP del tribunale di Pesaro Francesco Messina su richiesta del sostituto procuratore Letizia Fucci. I quattro sono tutti originari della Calabria. Nino De Luca, ventottenne, disoccupato, residente a Pesaro da molti anni. Il fratellastro Franco, quarantenne, disoccupato, con una lunga permanenza in Germania e da poco rientrato in Italia. Prima a Pesaro e poi a Melissa. Dante Lanza, 34, e Massimiliano Caizza, ventottenni entrambi con dimora a San Pietro in Casale, nonché operai di un'azienda di facchinaggio all'interporto di Castelmaggiore a Bologna. La scena del crimine quella sera presentata ai carabinieri e poi al magistrato e dal medico legale era efferata. Il corpo di Sesto Grilli giaceva a terra, riverso su un fianco, bloccato da una sedia con del nastro telato che gli avvolgeva le mani, torace e viso, nonché presentava una vistosa ferita alla tempia e che aveva provocato una copiosa fuoriuscita di sangue. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle preziose testimonianze di persone che lo avevano conosciuto, ricostruivano così le abitudini di vita della vittima ed il giro di amicizie e conoscenze. Sesto Grilli aveva contatti con tantissime persone di diversa estrazione sociale e che era anche solito concedere dei prestiti, di somme di denaro e per il gioco anche della morra, di cui era un appassionato e per il quale aveva contatti in tutte le marche. Confrontando quindi le sue conoscenze con i tabulati del traffico telefonico, gli investigatori hanno individuato un uomo di origini calabresi, già residente a Pesaro e da Fano, e da qui il figlio Nino De Luca. Partendo da lui sono stati individuati il fratellastro Franco e poi Lanza e Cagliazza, ad incastrare la banda non solo il DNA lasciato sul nastro adesivo, ma anche i loro movimenti attraverso la visione di ore e ore di filmati di telecamere di sorveglianza su strade e autostrade lungo il percorso fatto quella notte, delle permanenze nelle camere d'albergo e l'aggancio con le celle telefoniche dei loro cellulari. L'auto di De Luca ha, la notte del delitto, fatto la spola tra Pesaro e San Lorenzo in campo per ben due volte e la seconda volta con un orario compatibile con quello dell'omicidio di Sesto Grilli. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli interrogatori di garanzia di quattro e ulteriori accertamenti per chiarire le singole posizioni e l'esatta dinamica di quanto avvenuto nella casa di Grilli.